Operai della ditta Compatti di Roma a lavoro, questa volta senza le ruspe, per demolire un villino incontrato a Poliscia, zona balneare di Licata, che si trova a circa 10 km dal centro abitato, costruito senza licenza edilizia e senza la possibilità di poterlo sanare, essendo stato edificato sul mare, entro i 150 metri dalla Battigia, in una zona cioè a vincolo di inedificabilità assoluta. Si tratta di uno stabile a piano terra, ma siccome la zona in questione non è raggiungibile con i mezzi pesanti, gli operai della ditta incaricata dal comune stanno eseguendo la demolizione a mano. Questo ovviamente comporterà un intervento più lungo del solito per abbattere l'immobile in questione. Successivamente, così come prevede la Prassi, le macerie saranno selezionate e conferite nelle apposite discariche autorizzate che si trovano sia a Licata che a Favara. Sono in tutto sei villini da demolire all'interno della fascia vincolo di inedificabilità assoluta che ricade nei 150 metri dalla Battigia. Le ingiunzioni alle demolizioni sono state notificate dal Dipartimento Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Licata agli ex proprietari di mobili costruiti negli anni lungo la costa ricatese, anche nel perimetro che rientra nei 150 metri dalla Battigia dove vige il vincolo persuto di edificare. La maggior parte dei manufatti che verranno demoliti dal Consorzio Compatti di Roma, che ha vinto la terza gara indetta dal Comune, si trova nella zona della Rocca, ma ce ne sono altre al Prisciotto, Torre di Gaffe e alla Playa. Ai proprietari è stato assegnato un termine per poter demolire autonomamente quanto realizzato senza autorizzazione. Se non lo faranno di propria e spontanea volontà, a questo punto saranno azionate le ruspe della ditta e successivamente saranno addebitate le spese per le demolizioni agli stessi ex proprietari. Alcuni ex proprietari hanno già ricevuto l'ok della Procura della Repubblica di Agrigento e dell'Ufficio Tecnico del Comune di abbattere autonomamente risparmiando cose sulle spese di demolizione che sarebbero loro addebitate in caso di intervento delle ruspe comunali. La normativa prevede infatti che oltre a demolire i villini abusivi, il Comune si impossesserà del terreno in cui verranno messi in pristino i luoghi e inoltre saranno applicate a carico degli ex proprietari sanzioni che vanno da 4.000 a 20.000 euro.